Lunedì prossimo, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia, Romagna e Calabria, la Giunta per l'Immunità del Senato voterà sull'autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso della nave Gregoretti, la maggioranza all'attacco della Presidente del Senato Casellati che ieri nella Giunta del Regolamento ha votato con le opposizioni. Taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40.000 euro, arrivando fino a 100 euro al mese per chi guadagna fino a 28.000 euro. La proposta è illustrata ieri dal Governo e i sindacati. La misura in vigore da luglio prossimo interesserà 16 milioni di lavoratori. I sindacati parlano del risultato parziale ma indubbiamente positivo. E' ancora altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Ieri il leader supremo Ali Khamenei, a otto anni di distanza dall'ultima apparizione, ha condotto la preghiera del venerdì e ha definito Donald Trump un pagliaccio. Immediata la risposta del Presidente americano deve stare molto attento alle parole che usa, ha avvertito Trump. Domani a Berlino la conferenza che potrebbe segnare una svolta sulla grave situazione in Libia. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla televisione di Stato libica, però il Premier Sarraj potrebbe disertare l'incontro e inviare solo una delegazione. In Germania ci sarà il Presidente russo Putin che ha rivelato la disponibilità del generale Haftar ad una soluzione politica della crisi. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. Dunque l'ultimo scontro politico si consuma sulla richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Ieri la Giunta del regolamento ha stabilito che la Giunta per l'immunità deciderà lunedì una decisione a cui si è arrivati con il voto del Presidente del Senato Casellati. Un voto che ha fatto infuriare la maggioranza che ne chiede adesso le dimissioni, l'accusa di non essere più super partes. Dure le parole di Zingaretti che ha detto è stata scorretta. Una partita che si gioca con le elezioni regionali dietro l'angolo. Il 26 si vota in Emilia Romagna e in Calabria e che non potrà avere ripercussioni su questa partita. Vediamo. Sul caso Gregoretti, bufera politica sul Presidente del Senato Casellati, la riunione della Giunta per il regolamento di Palazzo Madama di ieri ha deciso che il voto dell'altra Giunta, quella per le autorizzazioni a procedere, deciderà lunedì 20 gennaio sulla richiesta di processare Salvini. La maggioranza giallorossa chiedeva invece di deliberare dopo il voto regionale in Emilia Romagna e Calabria di domenica 26 gennaio. A mandare le forze della coalizione di governo su tutte le furie la decisione del Presidente del Senato Casellati di partecipare al voto della Giunta per il regolamento e quindi di spostare l'ago della bilancia a favore delle opposizioni. Per consuetudine di solito il Presidente si astiene, così le polemiche ora divampano. La maggioranza l'attacca e ne chiede le dimissioni. A quanti altri abusi assisteremo? Si interroga il 5 Stelle Giuseppe Brescia. Mentre dal PD Zingaretti, l'apostrofa in questo modo, è stata scorretta, è venuta meno alla sua funzione superparte se si è schierata. I partiti della coalizione giallorossa non volevano concedere l'argomento relativo al processo per sequestro di persone a Salvini proprio nell'ultima settimana di campagna elettorale, ma l'ha spuntata l'opposizione di centrodestra con il voto del Presidente Casellati definito da Andrea Marcucci, PD, un colpo di mano. Dal centrodestra si prova a fare quadrato attorno alla Casellati, che nel frattempo affida alla stampa un comunicato in cui respinge ogni ricostruzione che metta in dubbio la terzietà della sua azione. Regole garantite, spiega il capogruppo forzista alla Camera, Gelmini. Nessun colpo di mano assicura sempre da Forza Italia il senatore Malan e dai fratelli d'Italia Giorgia Meloni parla di maggioranza vigliacca. E per Giorgetti della Lega la maggioranza ha paura di mandare a processo Salvini perché pensa che il popolo italiano sia dalla sua parte. Non è comunque escluso un ennesimo colpo di scena. Il 20, al momento del voto, la maggioranza potrebbe disertare la Giunta rimandando tutto all'Aula. Mentre Salvini ripete se sono un criminale mi processino, se sono una persona per bene la smettano con questa rottura di scatole. E parliamo adesso di taglio di cuneo fiscale perché questo è quello che c'è nelle intenzioni dell'esecutivo che ieri ne ha parlato con i sindacati. Un taglio per i redditi più bassi che trova il favore dei sindacati che parlano di un primo passo sulla strada giusta ma che però guardano già oltre. Vediamo. 3 miliardi nelle buste paga di 16 milioni di lavoratori dipendenti italiani previsti dal primo luglio prossimo. E lo snodo centrale dell'accordo trovato ieri tra governo e sindacati sul taglio del cuneo fiscale la riduzione delle tasse sul lavoro che renderà più pesanti le buste paga dei lavoratori. La misura riguarderà chi ha un reddito tra gli 8.200 e i 40.000 euro lordi l'anno. Restano esclusi i cosiddetti incapienti coloro cioè che dichiarano un reddito sotto gli 8.200 euro. In totale coinvolgerà dunque 16 milioni di persone e 4,3 milioni di lavoratori in più da luglio prossimo. Il premier Conte e il ministro dell'economia Roberto Gualtieri hanno assicurato che si tratta soltanto di un primo passo per arrivare alla riforma dell'IRPEF. Secondo la bozza del decreto che potrebbe essere pronto già la prossima settimana, il vecchio bonus renziano di 80 euro salirà a 100 e riguarderà anche una nuova platea di circa 750.000 lavoratori dipendenti oggi esclusi dalla misura quelli che hanno redditi tra i 26.600 e i 28.000 euro mentre per coloro che percepiscono più di 28.000 euro subentrerà un meccanismo di decrescita. In pratica i redditi dai 28.000 ai 35.000 percepiranno 80 euro al mese quelli dai 35.000 ai 40.000 a 40 euro mentre il bonus si azzererà dopo i 40.000. Il ministro Gualtieri ha parlato anche di ampia convergenza sull'accordo per il segretario della CGL Maurizio Landini dopo tanti anni c'è un provvedimento che aumenta il salario netto di una parte dei lavoratori dipendenti. Un primo risultato ha concluso Landini per avviare un confronto che deve portare a una vera riforma fiscale. Governo dunque che marcia compatto sulle questioni economiche mentre invece è ancora diviso su altri temi a partire dall'ipotesi di revoca della concessione ad autostrade con il Movimento 5 Stelle che è assolutamente fermo su questo punto. Intanto la concessionaria di Atlantia cerca di riavviare il dialogo con il governo ponendo sul piatto della bilancia le due strade, un piano strategico con una manutenzione e nuove assunzioni e dall'altra 7.000 posti di lavoro. Vediamo. Il concetto è chiaro per evitare il fallimento autostrade per l'Italia deve ricucire il rapporto con il governo intenzionato a revocare le concessioni ma non c'è ancora una linea compatta nella maggioranza dell'esecutivo. Durissima la linea 5 Stelle il vice ministro lo sviluppo economico Stefano Buffagni il governo non si fa ricattare fa schifo questo modo di porsi Atlanti ha fallito bisogna farsi la domanda se è il caso di fare scelte differenti dice meno agguerrita ma determinata la posizione del ministro dei trasporti De Micheli penso che il tempo non sia sprecato per fare le cose fatte bene e preferisco avere tre giorni in più l'esigenza è riequilibrare lo squilibrio che si è determinato nei rapporti con i concessionari la linea del ministro segue le indicazioni del suo partito il PD vorrebbe prendere tempo poi c'è Italia Viva Renzi spiega l'eventuale revoca deve avere delle solidissime basi giuridiche il clima nella maggioranza è questo la decisione sulla concessione ad autostrade verrà affrontata dopo le elezioni regionali del 26 gennaio poco prima del termine per la conversione in legge del mille proroghe intanto c'è preoccupazione per il futuro dei 7 mila dipendenti di Aspi senza le concessioni e con l'indennizzo previsto dal decreto mille proroghe l'azienda andrà in default ha detto l'amministratore delegato dell'azienda Roberto Tomasi il manager da un anno alla guida di Aspi nel tentativo di risollevarla dopo il crollo del Ponte Morandi la mossa strategica del gruppo ricucire la fiducia tra la controllata dalla famiglia Benetton e il paese è nel nuovo piano strategico 2020-2023 mille nuove assunzioni e 7,5 miliardi di investimenti in quattro anni di questi un miliardo e 600 milioni saranno dedicati alle manutenzioni il nuovo corso manageriale punta a chiudere con il recente passato costato la vita a 43 persone il 14 agosto 2018 quello della gestione Castellucci finita nell'inchiesta della procura di Genova per gli esteri in primo piano l'Iran con la guida suprema Ali Kamenei che è tornato a condurre la preghiera del venerdì dopo ben 8 anni durissimo l'attacco nei confronti degli Stati Uniti in particolare del presidente Donald Trump la cui risposta non si è fatta naturalmente attendere deve stare molto attento alle sue parole puntuale come un orologio la risposta di Donald Trump ad Ali Kamenei non si è fatta attendere riecheggiando il suo slogan elettorale il presidente degli Stati Uniti come sempre avviene tramite Twitter ha scritto Make Iran Great Again incitato alla rivolta il nobile popolo che ama l'America Trump è un pagliaccio che pugnala alle spalle aveva detto ieri la guida suprema iraniana che con un sermone infuocato è tornata a distanza di otto anni ad ufficiare la preghiera islamica del venerdì nella grande moschea di Teheran alle sue spalle la gigantografia del generale Suleymanì evocato numerose volte nel corso di un vero e proprio comizio in cui la massima autorità della Repubblica Islamica torna a denunciare l'uccisione vigliacca dice di un uomo che gli americani non sono riusciti ad eliminare sul campo di battaglia dando così un colpo alla loro immagine di superpotenza l'anziano leader è dunque tornato di infiammare le folle a dispetto del presidente Rohani peraltro presente in moschea che aveva dato prova di maggiore moderazione e probabilmente non a caso si è allontanato prima della conclusione della preghiera mostrando secondo alcuni dissenso Israele è un tumore nella regione ha detto la Yatollah incitando i manifestanti pro regime scesi in massa per le strade a farsi sentire a suon di slogan e calpestini bandiere americane e israeliane morte all'America morte all'Israele grida talvolta la folla manifestazioni filogovernative che sono proseguite a lungo in varie città mentre si diffondeva la notizia che nel corso dell'attacco iraniano alle basi irachene della coalizione internazionale alcuni soldati statunitensi sono rimasti feriti sintomi che riferisce il comando generale americano sul posto sono emersi alcuni giorni dopo il fatto più sottotraccia per paura di ripercussioni ma non certo irrilevante la protesta di chi si oppone al regime rigetta con rabbia le parole di Khamenei il paese come è apparso chiaramente all'indomani dell'abbattimento occidentale dell'aereo ucraino a Teheran è diviso e chi si oppone viene duramente represso e spesso ucciso altra questione in primo piano quella della Libia domani al Via la conferenza di Berlino fortemente voluta dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea ma l'incertezza sulla presenza di uno dei due protagonisti rischia di indebolire gli sforzi della comunità internazionale la notizia è cominciata a circolare nella serata di ieri il premier libico Fayez Al Serraji potrebbe disertare la conferenza di Berlino sulla Libia colui che assieme al generale della Cirenaica Khalifa Haftar è uno dei due protagonisti della crisi che si sta consumando lungo le sponde del Mediterraneo potrebbe decidere di inviare soltanto una sua delegazione i due avversari hanno fatto fallire già due vertici quello di Roma e quello di Mosca in pochi giorni non riescono a stare insieme nella stessa stanza figuriamoci a rivolgersi la parola così il ministro degli esteri Russo Lavrov ha efficacemente descritto i rapporti tra i due nemici ma Angela Merkel spera comunque di riuscire dove altri hanno fallito in una Berlino blindata è previsto domani l'arrivo anche del presidente russo Putin del segretario di Stato americano Pompeo e del presidente turco Erdogan che ha inviato i suoi soldati a Tripoli per aiutare Serraji e ieri ha definito Haftar un uomo inaffidabile in ballo c'è innanzitutto il mantenimento del cessato il fuoco che per ora sembra reggere se c'è una tregua in Libia lui deve essere pronta ad aiutare anche con soldati nel contesto di una missione europea ha dichiarato ieri il ministro degli esteri dell'unione Borrell ma in gioco c'è anche un'altra partita quella per il dominio energetico con da una parte il progetto Istmed varato da Grecia Israele Cipro per la costruzione di un gasdotto e dall'altra l'intesa di cooperazione militare di sicurezza firmata da Erdogan con una demarcazione dei confini marittimi che ostacola il progetto greco-israeliano Haftar ieri è volato proprio ad Atene per fare sponda con il governo greco mentre la Merkel andava di Istanbul a incontrare Erdogan ma secondo l'Egitto la decisione della Turchia di inviare militari in Libia potrebbe avere un impatto negativo sulle aspettative di Berlino e ci spostiamo in Francia dove una trentina di manifestanti hanno tentato ieri sera di entrare nel teatro di Parigi dove Macron e sua moglie Brigitte stavano assistendo ad uno spettacolo i militanti sarebbero stati allertati da un giornalista presente all'interno della sala che avrebbe pubblicato su Twitter una foto del presidente sui social network invitandoli a venire Macron e la moglie per alcuni minuti sono stati messi in sicurezza mentre i contestatori tentavano di entrare nel teatro e poi una volta terminate le proteste sono rientrati nella sala per vedere la fine della rappresentazione il giornalista è stato considerato responsabile dei disordini e arrestato e torniamo in Italia andiamo a Foggia che da mesi è sotto attacco da parte della criminalità organizzata e il ministro dell'interno Lamorgese in un colloquio oggi sulla stampa ha parlato di un'escalation che non può passare inosservata e che comunque è il sintomo di una debolezza di cui la decisione di inviare una task force dal 15 di febbraio sarà operativa una nuova sezione della DIA con una ventina di investigatori ed è proprio la DIA a tracciare le caratteristiche della quarta mafia vediamo una mafia spietata che punisce chi si ribella il rapporto dell'antimafia disegna i contorni di quello che sta accadendo a Foggia nella relazione semestrale si descrive una criminalità in evoluzione un'area grigia a punto d'incontro tra mafiosi imprenditori liberi professionisti e apparati della pubblica amministrazione una terra di mezzo dove regna l'omertà imprenditori ricattati che subiscono il pizzo ma nessuno denuncia in questa spirale sarebbero finiti i due fratelli vigilante uomini di affari che gestiscono un gruppo sanitario vittime degli ultimi due attentati dinamitardi nella città pugliese forse una ritorzione perché testimoni dell'accusa in un processo a carico di un clan mafioso che gli aveva chiesto assunzioni ma gli investigatori non escludono anche altre ipotesi perché le due ultime bombe cinque attentati in tutto dall'inizio dell'anno hanno provocato una durissima reazione dello Stato che ha già deciso di inviare uomini e mezzi delle forze dell'ordine azioni eclatanti che avrebbero dunque provocato una reazione controproducente per la stessa mafia locale in un territorio ormai presidiato dalle forze dell'ordine la criminalità ha più difficoltà a muoversi ma è pur vero che ormai con i boss in cella le strade sono gestite dalle nuove leve feroci ma forse meno abili a gestire affari e allora quelle bombe potrebbero essere stata una mossa sbagliata da parte loro ora gli investigatori stanno dando la caccia all'uomo incappucciato che ha piazzato l'esplosivo davanti al centro di urno per anziani dei fratelli vigilante ai quali è stata potenziata la scorta e c'è una buona notizia perché è originale l'opera di Klimt che è stata ritrovata il 10 dicembre scorso a Piacenza vediamo con non poche emozioni che annuncio a voi tutti che l'opera è risultata autentica è stato il pubblico ministero che indaga sulla sua sparizione ad annunciare che il ritratto di signora di Gustav Klimt è l'originale olio su tele realizzato dal pittore austriaco tra il 1916 e il 1918 lo stesso dipinto trafugato dalla galleria di arte moderna Ricci Oddi di Piacenza nel lontano febbraio 1997 durante i preparativi di una mostra in allestimento e ritrovato il 10 dicembre scorso dopo oltre 22 anni nello stesso posto da cui era sparito a ritrovarlo per caso alcuni operai addetti alla manutenzione del verde in questa intercapedine nel muro esterno della galleria piacentina in un sacco nero di plastica è stato passato ai raggi X agli infrarossi a quelli fluorescenti la struttura il telaio i sigilli tutti i particolari presenti sul dipinto sono stati analizzati dai periti incaricati dalla procura e comparati con l'ultima analisi compiuta solo un anno prima della sua scomparsa ancora bisogna capire se il dipinto è stato nascosto lì per oltre 22 anni oppure se è stato riposto nella nicchia e quando ma soprattutto da chi l'indagine della procura piacentina continua con il massimo riservo ritratto di signora nasconde un'altra opera un altro dipinto di Klimt ritratto di donna con cappello dato per disperso negli anni 30 finiti gli accertamenti tecnici questo quadro dal valore inestimabile dicono gli esperti sarà restituito alla galleria Ricci Oddi e dobbiamo aprire la pagina dello sport con un lutto nel mondo del calcio perché è morto ieri all'età di 71 anni Pietro Anastasi attaccante siciliano che negli anni 70 vinse tre scudetti con la Juventus e una Coppa Italia con l'Inter Anastasi aveva fatto parte della nazionale italiana che conquistò l'europeo nel 1968 e intanto per il campionato di calcio oggi sono in programma tre partite vediamo nemmeno il tempo di archiviare la Coppa Italia che è già campionato la prima giornata del girone di ritorno propone un altro capitolo della sfida a distanza tra Juve e Inter i bianconeri ospiteranno il Parma domani sera qualche ora prima toccherà i nerazzurri sul campo del Lecce ma prima c'è da vivere un sabato calcistico per nulla banale tra gli anticipi il primo alle 15 riguarda la Lazio la terza incomoda nella lotta a Scudetto che se la vedrà l'Olimpico con la Sampdoria rigenerata da Claudio Ranieri i romani continuano a viaggiare verso territori inesplorati vincono da dieci gare consecutive ma nonostante questo Inzaghi predica prudenza noi dobbiamo continuare il nostro ottimo percorso sapendo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario ma tutte le nostre competitor avversarie hanno la possibilità di fare bene come abbiamo fatto noi se Inzaghi parla di prudenza Claudio Ranieri invece incita la lotta ha caricato la sua squadra così se si rilassano me li mangio vivi il secondo anticipo si gioca alle 18 a Reggio Emilia metterà di fronte due squadre che vivono momenti opposti da una parte il Sassuolo che perde da tre partite dall'altra il Torino che ha iniziato il nuovo anno vincendo due gare e conquistando la qualificazione ai quarti di Coppa Italia in serata il terzo anticipo Napoli-Fiorentina dirà se Rino Gattuso è riuscito a risolvere i problemi del Napoli che nelle ultime 11 giornate ha vinto solo una volta e se quella della Fiorentina rilanciata dall'arrivo di Iachini è vera gloria dobbiamo vincere per noi è un momento delicato ha detto Gattuso in realtà lo è per tutti e a gennaio infatti che si vincono perdono gli scudetti per ciò che avviene in campo ma anche fuori con il mercato di riparazione e allora non è un caso se in queste ore la società più attiva è l'Inter che punta a rafforzare la Rosa per la grande volata finale il primo rinforzo proveniente dal Manchester United è Young già sbarcato a Milano e invece è sfumato Spinazzola lo scambio coppolitano è saltato e questo potrebbe spingere i nerazzurri a puntare su Moses di proprietà del Chelsea indirittura di arrivo anche le trattative di Giroud e Eriksen anche se riguardo al centrocampista danese Mourinho ha fatto sapere raffreddando un po' l'ottimismo dell'Inter che al Tottenham non è arrivata nessuna offerta ed è tutto il telegiornale torna alle 13.30 ora le previsioni del tempo con Paolo Sottocrone poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Edgardo Gulotta vi auguro una buona giornata a tutti a tutti a tutti